Ciao a tutti, sono Daniele, il vostro astronomo. Nei precedenti video abbiamo iniziato ad assaporare la straordinaria bellezza dell'universo e abbiamo visto alcuni tra gli eventi più catastrofici che hanno portato alla nascita del nostro pianeta e di noi esseri umani. Ora, però, è arrivato il momento di prendere la nostra astronave virtuale e partire per un lungo viaggio che cambierà per sempre la nostra idea del cosmo e, forse, delle nostre vite. L'universo è definito come tutto quello che ci circonda. La Terra, il nostro pianeta che sembra tanto grande e meraviglioso, è solo una minuscola goccia d'acqua persa nel più grande oceano che potremmo mai immaginare. Siamo abituati a pensare all'universo come un posto buio, a volte persino noioso, impossibile per noi da comprendere e sicuramente ostile alla vita come la conosciamo. Questa, però, è solo una visione molto parziale. La conoscenza dell'universo è strettamente connessa al nostro progresso scientifico, tecnologico e culturale. Le popolazioni antiche non possedevano telescopi e pensavano che le stelle fossero delle lanterne luminose appese al soffitto di una gigantesca cupola da parte degli dèi. Le stelle e le costellazioni coccolavano gli esseri umani e allo stesso tempo mostravano a loro la potenza degli esseri superiori che li avevano creati. Ci vollero migliaia di anni per uscire da questa visione antropocentrica. Ci vollero secoli per capire che le stelle erano luci di mondi alieni che nulla avevano a che fare con le vicende umane, poste a distanze che nessuno poteva immaginare. Quando Galileo Galilei puntò per la prima volta ad un telescopio verso il cielo, osservò migliaia di stelle e comprese che i pianeti, quei punti in movimento in un cielo altrimenti immobile, erano altri mondi simili alla Terra. Le dimensioni dell'universo crebbero a dismisura. Quella cupola sulla quale erano appese delle minuscole lanterne diventò uno spazio profondo milioni, miliardi di chilometri. Quando Galileo iniziò a dimostrare con le osservazioni la vera natura dell'universo, l'uomo iniziò a sentirsi più piccolo perché stava scoprendo che non tutto girava intorno a se stesso e che le stelle non influenzavano affatto la sua esistenza. Ora sappiamo che la Terra non ruota intorno al Sole, come si pensava prima di Galileo, ma che è uno dei tanti pianeti che orbitano attorno alla nostra stella e nemmeno il più grande. Il Sole, per tanto tempo considerato il centro dell'universo dopo Galileo, si scoprì essere una stella qualsiasi in un mare che ne contiene centinaia di miliardi. Non solo non siamo al centro della nostra galassia, ma la Via Lattea non è neanche l'unica esistente. Nell'universo si pensa che esistano migliaia di miliardi di sistemi stellari simili alla nostra galassia, ognuno contenente centinaia di miliardi di stelle simili al Sole. Sebbene la visione di un universo costruito da qualcuno attorno al nostro pianeta per compiacere gli esseri umani sia affascinante, la realtà è ben diversa. Nel corso dei secoli ci siamo scoperti piccolissimi e invisibili, già dal pianeta più vicino. Osserviamo questa foto scattata da una sonda automatica su Marte, il nostro vicino di casa. Quel punto indistinto non è una stella, è il nostro pianeta. Già a 70 milioni di chilometri di distanza, la Terra e tutto quello che conosciamo sono concentrati in un punto senza dimensioni. In quel punto c'è tutta la nostra storia, i nostri paesaggi, i nostri amici e i nostri parenti. Ci sono tutti gli esseri umani, tutte le piante, tutti gli animali e tutte le esperienze della nostra vita. In un punto. Le distanze dell'universo sono senza dubbio la cosa più sorprendente. Marte e Venere, i pianeti a noi più vicini, si trovano a oltre 40 milioni di chilometri, una distanza mille volte più grande di un giro completo attorno al nostro pianeta. Il Sole, che ci sembra tanto vicino, si trova a 150 milioni di chilometri. Il pianeta più distante del sistema solare, Nettuno, è a oltre 4 miliardi di chilometri. Da quei remoti luoghi nella periferia del sistema solare, la Terra risulterebbe del tutto invisibile a occhio nudo. Già molto prima di uscire dal nostro sistema planetario, noi, le nostre urla, i nostri problemi, i conflitti, la superficialità della vita, scompaiono dalla faccia dell'universo e nessuno potrà mai ascoltarli. Le nostre astronavi più veloci raggiungono i 100 mila chilometri orari. Nonostante questo, servirebbero anni per arrivare su Nettuno e migliaia di anni per arrivare sulla stella più vicina, distante circa 40 mila miliardi di chilometri, un miliardo di volte più della circonferenza del nostro pianeta. Le distanze nell'universo sono talmente grandi che non si misurano in chilometri, ma in anni luce. Un anno luce è la distanza percorsa da un raggio di luce nel vuoto dello spazio, in un anno, ed è un numero sorprendente. La luce viaggia circa 300 mila chilometri al secondo, 20 mila volte più rapida della nostra astronave più avanzata. A questa straordinaria velocità, il Sole si raggiungerebbe in appena 8 minuti e Nettuno in poche ore, non in anni. In un anno, un raggio di luce compie l'incredibile distanza di 9.500 miliardi di chilometri. Sembra assurdo, una velocità quasi impossibile da immaginare, eppure anche la luce ha bisogno di oltre 4 anni di viaggio per arrivare sulla stella più vicina. Per attraversare tutta la nostra galassia, un raggio di luce impiegherebbe 100.000 anni. Sono necessari più di 2 milioni di anni di viaggio per giungere alla galassia a noi più vicina, la galassia di Andromeda. Le galassie più lontane si trovano a miliardi di anni luce. La velocità della luce è il limite di velocità per tutto l'universo. Non c'è niente che possa superare questo limite. Niente può viaggiare più rapido della luce. Non è un problema della nostra tecnologia. Sono le regole dell'universo e nessuno può infrangerle. Il limite di velocità dell'universo, fissato dalla velocità della luce, ci permette di comprendere una delle proprietà più incredibili. Quando osserviamo una stella, un pianeta, una galassia, noi riceviamo la luce di questi oggetti che ha viaggiato nel vuoto dello spazio per ore, per anni o persino milioni di anni. L'immagine che noi vediamo degli oggetti celesti non corrisponde dunque al loro presente, ma al passato. Se una stella è distante 10 anni luce, vuol dire che in questo momento stiamo osservando la luce emessa 10 anni prima, che solo ora arriva ai nostri telescopi. Più lontano osserviamo nello spazio, più lontano vediamo nel tempo. La galassia di Andromeda, distante 2,5 milioni di anni luce, la stiamo osservando come era 2,5 milioni di anni fa, perché questo è il tempo che ha impiegato la sua luce per arrivare fino ai nostri telescopi. La distanza in anni luce non solo ci dice quanto è distante un oggetto, ma anche quanto tempo nel passato lo stiamo osservando. Quello che per gli abitanti della galassia di Andromeda è il passato, per noi è il presente, perché sta succedendo ora, con 2,5 milioni di anni di ritardo rispetto al tempo di Andromeda. Non c'è modo di superare questa barriera, ma questo non significa che quello che stiamo osservando non sia reale. Per Andromeda è già accaduto, per noi sta accadendo ora, ma nessuno dei due sistemi di riferimento è più giusto dell'altro, semplicemente si sviluppano su tempi differenti. Più lontano guardiamo nello spazio, più viaggiamo indietro nel tempo degli oggetti che stiamo osservando. Questo significa che possiamo osservare direttamente tutta la storia dell'universo, semplicemente guardando sempre più in profondità. Sotto questo punto di vista, noi astronomi siamo molto fortunati, perché la storia dell'universo possiamo osservarla, invece di dedurla, come fanno ad esempio i geologi o i paleontologi. Naturalmente noi non siamo in un luogo speciale dell'universo dove vigono regole differenti. Le regole non cambiano se spostiamo il nostro punto di vista. Un osservatore su un pianeta distante 100 anni luce dalla Terra vedrebbe il nostro pianeta come era 100 anni fa e osserverebbe in diretta le macerie della Prima Guerra Mondiale. Ma vedrebbe anche i nostri nonni, nel pieno della loro giovinezza, vivere le loro vite, perché per questo osservatore i nostri nonni sarebbero ancora in vita. A 2000 anni luce di distanza, una specie voluta non vedrebbe noi, ma i fasti dell'antica Roma. Per noi questo è il passato, per loro sarà il presente. Se qualcuno nella galassia di Andromeda ci stesse osservando, della civiltà umana non vedrebbe nulla, perché per il suo sistema di riferimento il presente sarebbe il nostro passato di 2,5 milioni di anni fa. Un osservatore a 65 milioni di anni luce di distanza potrebbe osservare in diretta la fine violenta dei dinosauri. Dovrebbe aspettare 65 milioni di anni prima di assistere alla nascita dell'uomo moderno. Il nostro tempo qui è limitato, ma tutta la nostra storia continuerà a viaggiare per l'universo sul lunghissimo nastro fatto di particelle di luce. Questo nastro mostrerà all'universo tutti i momenti, anche i più intimi, che abbiamo vissuto, raggiungendo ogni punto, anche il più sperduto. Queste minuscole particelle di luce trasmetteranno a tutto l'universo il ricordo e la vita di ogni essere vivente mai apparso su questo pianeta, come se non morisse mai. Finché il cosmo sarà in vita, lo sarà anche il nostro ricordo. E questa, forse, è la più grande lezione di vita che può regalarci l'universo.